Sono di fianco ad una carrozza, non una carrozza qualsiasi, ma la carrozza diplomatica di Camillo Cavour. Questo straordinario oggetto ci dà in là per parlare degli intrecci tra storia e diplomazia. Lo facciamo con il professore Edoardo Greppi, titolare della Catera di diritto internazionale all'Università di Torino, che ovviamente ringrazio infinitamente per la sua cortesia e disponibilità a questo incontro. Ecco, certamente uno dei crocevia della storia e dell'intreccio di questa con la diplomazia è questa cittadina dei vosgi francesi chiamata Plombier. Qui il 21 luglio del 1858, Cavour, sotto copertura, come diremmo oggi, nell'anonimato più assoluto, viaggia con un passaporto intestato a Benso, dorme nelle locande, incontra Napoleone III. Solamente il re e la marmora sono a conoscenza di questo incontro. Ecco, che cosa si decide a Plombier e perché è una missione segreta? Il motivo è che già dal 1856, dal congresso di Parigi, il presidente del Consiglio del Regno di Sardegna, Camillo Cavour, sta lavorando per costruire i presupposti perché si arrivi a quello che è oramai chiaro abbastanza essere il suo obiettivo, cioè una guerra all'Austria, per realizzare compiutamente l'unità nazionale a partire almeno dal nord Italia. Questo era l'originario disegno. È perfettamente consapevole che il Regno di Sardegna da solo non ce lo può fare, non ce la può fare e ha bisogno del sostegno politico e militare francese. Dietro a questa operazione sta un disegno ancora più ampio e cioè l'ordine mondiale, che vuol dire poi sostanzialmente in quel tempo l'ordine europeo, era ancora quello stabilito al congresso di Vienna nel 1815 dopo le guerre napoleoniche. E questo ordine ha consacrato per i primi decenni, la prima metà dell'Ottocento, ha consacrato l'egemonia di alcune potenze, un assetto politico territoriale stabilito dopo le guerre napoleoniche, funzionale a questa balance of power, a questo equilibrio delle potenze del tempo. Bene, Napoleone III, che ha una componente anche, tra virgolette, rivoluzionaria della sua storia personale, è incline a far saltare quell'ordine e in questo si può realizzare una sintonia con Cavour. Anche Cavour ha bisogno di far saltare quell'ordine, perché quell'ordine è stato stabilito a Vienna e di quell'ordine l'impero austro-ungarico è il pilastro, è il caposaldo e non si può realizzare l'unità italiana se non con una guerra all'Austria. Questo è sostanzialmente il disegno. Il motivo della segretezza è che una parte consistente delle potenze europee del tempo, la guerra invece non la vuole e farà il possibile per evitare la guerra. Quindi questo è il contesto nel quale si colloca. Lo stesso Napoleone III non può fidarsi di tutti, ecco la ragione anche da parte sua della segretezza. Il Conte Vadevski, il ministro degli esteri, vorrebbe a tutti i costi evitare una guerra e sarebbe contrario a un'entrata in campo della Francia. Quindi sostanzialmente ecco la ragione dei primi passi in assoluta segretezza, che però mettono le basi per un futuro accordo che è incentrato nella diplomazia cavuriana, nell'intendimento di Cavour, è incentrato sul provocare l'Austria. Cioè la guerra la voglio fare, questo è il pensiero di Cavour, ma non devo essere io a dichiararla. Diversamente perderei l'appoggio delle grandi potenze, perderei anche l'appoggio di quelle potenze che pur non sostenendo direttamente uno sforzo militare, non schierandosi sui campi di battaglia, tutto sommato mostrano simpatia per la causa italiana e in primis l'Inghilterra. Ecco sul tavolo di questo incontro si narra di un incontro in due fasi, uno addirittura nella carrozza tra Cavour e Napoleone III. Ecco, le merci di scambio sul tavolo quali sono? Sostanzialmente Cavour ha bisogno, voglio dire il disegno deve essere politicamente condiviso ed è appunto nella strategia più ampia di far saltare l'ordine del congresso di Vienna. Il sostegno francese ovviamente ha un prezzo, il prezzo è il contributo militare da parte del Regno di Sardegna che deve essere cospicuo, pur lasciando il comando a Napoleone III. Nelle pieghe dell'accordo c'è però la possibilità che il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, abbia anche egli un ruolo di comando. E poi soprattutto ci sono due clausole importanti. Uno è una clausola per così dire dinastica. Napoleone III vuole che Gerolamo Napoleone sposi la principessa Clotilde, figlia del re di Sardegna. La motivazione è una motivazione diciamo in sintonia con il sentire dinastico del tempo. I Savoia sono a quel tempo la più antica dinastia europea e i Bonaparte sono gli ultimi arrivati. Quindi il consolidare con un matrimonio la posizione tra le famiglie regnanti d'Europa ha un significato importante per Napoleone III. L'altro è una clausola invece in sintonia con i classici temi della sovranità, della sovranità territoriale, cioè l'accessione di Nizza e della Savoia. Sono due aspetti che per il diritto internazionale creano qualche problema. Nel 1850 il Presidente del Consiglio Massimo De Zeglio aveva chiamato sulla prima cattedra di diritto internazionale d'Italia, quella della Regia Università di Torino, un esule del Regno delle Due Sicilie, Pasquale Stanislao Mancini, che ha pronunciato una prolusione in apertura del suo corso incendiario. All'epoca non era una prima lezione fatta dal professore così davanti all'aula degli studenti, era un evento pubblico nell'aula magna dell'università, venivano invitate le autorità. Ebbene, Mancini pronuncia questo discorso incendiario della nazionalità come fondamento del diritto delle genti, cioè il diritto di un popolo, di una nazione a diventare Stato. E' la, come ha scritto Francesco Ruffini, è il riconoscimento di una dottrina giuridico-politica, politico del risorgimento italiano, che ha molti padri politici ma anche un padre giuridico, Pasquale Stanislao Mancini. Bene, l'acquisizione di, la perdita di Nizza, la perdita di Nizza da Savoia gioca due partite diverse, di segno diverso, perché cedere la Savoia è tutto sommato abbastanza coerente col principio di nazionalità, mentre cedere Nizza non lo era. Di qui ecco la difficoltà anche di rendere pubblico un accordo di questo genere che avrebbe creato grossissimi problemi. È stato riferito di uno scontro durissimo tra il re e Garibaldi. Garibaldi lo accusa di cedere la sua Nizza, lo accuserà più avanti, quando la cosa verrà portata in Parlamento, di cedere la sua Nizza, al che il re risponde no, scusi, il generale c'è una differenza grossa, la Savoia è la culla della mia dinastia, lei a Nizza c'è soltanto nato, non è propriamente sua. Questo per dire anche il significato simbolico delle due cessioni. Sono due ragioni per le quali gli accordi vengono tenuti segreti. Poi il matrimonio si celebrerà e come è stato riferito Massari commenta la povera Clotilde che all'epoca aveva 15 anni, è la prima vittima del campo di battaglia della Seconda Guerra di Indipendenza. Allora a Cavour riesce quello che qualsiasi manuale chiama l'internazionalizzazione. Ecco, sul campo da gioco il piccolo regno di Sardegna gioca da protagonista e Torino è addirittura l'ombelico diplomatico di vicende transnazionali. Com'è che avviene questo? Ecco, questo è un fatto, effettivamente quello che dici, straordinario. C'è un diplomatico francese che fece poi tutta la sua carriera nel Secondo Impero che in un libro di memorie scrive, in tutta la mia lunga carriera non si è mai riprodotto il periodo straordinario che ho vissuto da giovane diplomatico a Torino nel 1859. Cioè Torino era la capitale di un gioco, come dicevi effettivamente, europeo. D'altra parte Cavour nel 1860 in una lettera a Bettino Ricasoli scrive, non si muta l'assetto territoriale da tanti trattati stabilito, non si costituisce un forte regno, non si modifica così gravemente la carta del mondo senza che le grandi potenze abbiano il diritto di essere perlomeno consultate. Ecco, questa è l'intelligenza straordinaria del disegno politico cavuriano. Ho bisogno delle armi francesi, ma ho bisogno di una copertura inglese, britannica, ho bisogno quantomeno di una benevola neutralità di Russia e Prussia. In assenza di queste condizioni, che sono condizioni che collocano il disegno dell'unità nazionale italiana in una cornice genuinamente europea, l'unità d'Italia non si potrà fare mai. Questo è sostanzialmente la Convenzione di Cavour. D'altra parte Cavour è un uomo culturalmente europeo, i suoi riferimenti sono oltralpe, conosce e è stato a Parigi, Ginevra, Bruxelles, Londra e non è mai stato a Roma. Il suo riferimento è genuinamente europeo. Ed ecco quindi una pagina straordinaria è quella del rapporto con l'Inghilterra. Lui ha bisogno della copertura diplomatica britannica e lì si gioca una partita in tutta Europa, una partita molto arrischiata e rischiosa e cioè una parte delle potenze europee, gli stessi inglesi essenzialmente, vuole evitare la guerra e la vuole evitare con l'unico strumento che il diritto internazionale mette a disposizione degli stati in alternativa all'uso della forza e cioè un congresso finalizzato al raggiungimento di un accordo. Ed è qui che l'Austria commette la maggior parte dei suoi errori. Ecco, una domanda su un argomento che so a te molto caro, relativamente al quale hai scritto delle pagine molto importanti. Il ruolo apparentemente defilato sullo scacchiere dell'Inghilterra, defilato ma non per questo trascurabile. È un tema affascinante. Cavour è un uomo politico singolare, liberale, crede nel ruolo del Parlamento. Il Regno di Sardegna è l'unico Stato dotato in quegli anni di una Costituzione che ha instaurato un regime di democrazia liberale incentrato sul ruolo del Parlamento. Ebbene, quindi Londra gioca sì la partita del congresso. Vuole che la situazione, l'avvertenza tra Italia e Austria si giochi in una sede congressuale. Però la sede congressuale è la stessa che pone delle grosse difficoltà. La sede congressuale vuol dire che coloro che vengono chiamati a negoziare intorno a un tavolo si riconoscano reciprocamente. E qui si tocca un altro nervo scoperto. Nelle regole del diritto diplomatico del tempo e delle dinamiche dei rapporti di politica estera tra gli Stati, vi sono le potenze di serie A che si sono riservate uno spazio e sono per l'appunto Francia, Regno Unito, Russia, Prussia e Austria. E poi ci sono gli altri. Torino, il Piemonte, il Regno di Sardegna sono gli altri. Cioè sono una potenza, inutile nasconderselo, di serie B. E qui la sensibilità del diritto diplomatico del tempo, codificata nell'attit finale del congresso di Vienna, nel protocollo di Ex-La Chapelle nel 1818, anche per iscritto, con un ordine che codificava l'antico diritto diplomatico che verrà poi ripreso soltanto nel 1961 con la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, sostanzialmente prevede che vi sia una partecipazione paritaria oggi intorno ai tavoli della diplomazia. All'epoca invece si volevano sostanzialmente consacrare quelle liturgie di un rapporto tra potenze non equilibrato, grandi potenze da una parte e gli altri no. E questo voleva dire anche essere ammessi allo stesso tavolo. Possiamo essere tutti considerati ammissibili allo stesso tavolo? La risposta di Vienna è categoricamente no. E Cavour si gioca il secondo round di una partita che aveva giocato a Parigi nel 1856. Lì aveva ottenuto, seppur in una sessione alattere del congresso, di partecipare a pieno titolo, appoggiato dagli inglesi. E di nuovo c'è una forte sintonia. Londra cerca di convincere Vienna ad accettare che Torino si sieda al tavolo negoziale, ma questo non avviene. Vienna non cede. L'onda lunga di questo atteggiamento austriaco lo avremo con Villafranca, l'armistizio di Villafranca e il successivo trattato di Zurigo. Gli accordi preliminari di Villafranca e il successivo trattato di Zurigo prevedono l'accessione da parte dell'Austria della Lombardia, ma l'accessione non avviene al Regno di Sardegna. L'imperatore Francesco Giuseppe cede la Lombardia a Napoleone III e Napoleone III a Lattere, in un altro accordo, formalizza l'accessione della Lombardia a Torino. Sono le liturgie del tempo oggi forse scarsamente comprensibili, però in questo Londra gioca una partita formidabile e sarà poi, per le ragioni che dicevo, compresa anche la simpatia di cui godeva la causa italiana presso quel governo, sarà poi il primo governo a riconoscere dopo il 17 marzo 1861 la formazione del Regno d'Italia. Ecco, voglio salutarti e ringraziarti con un'ultimissima domanda. Cavour, l'hai spiegato molto bene, gioca una partita incredibile, scardina le geometrie del congresso di Vienna, fa sedere il piccolo regno di Sardegna al tavolo delle grandi potenze. Qualcuno l'ha anche scritto, è un po' come se ad una partita il gioco d'azzardo puntasse tutte le fiche su un numero secco e sbanca. Ecco, ma senza nulla togliere chiaramente alla visione, al straordinario profilo geopolitico di Cavour. Ma ti voglio chiedere, in chiusura, gli altri giocatori al tavolo, giocano tutti bene le loro carte o qualcuno qualche errore lo commette? L'Austria fa dei grossissimi errori. Le clausole degli accordi per certi versi ambigui e quando gli accordi sono ambigui poi determinano anche seri problemi interpretativi, eccetera. Le clausole degli accordi tra Cavour e Napoleone III prevedono che il soccorso, l'aiuto militare francese ci sarà soltanto se sarà l'Austria ad attaccare e quindi ci vuole il soddisfacimento di questa clausola. Cavour gioca ovviamente la sua partita per provocare l'Austria. L'Austria dovrà attaccare. L'Austria chiede la smobilitazione delle truppe sarde e Cavour rifiuta. Chiede la smobilitazione e lo scioglimento delle formazioni dei volontari che al ritmo di cento al giorno stavano affluendo su Torino e Cavour non cede. Finché arriva Cavour porta la questione in Parlamento e nel momento in cui sta discutendo la questione in Parlamento il fedele amico Hudson lo informa che stanno arrivando i due pleni potenziali da Vienna che porranno l'ultimatum. Tre giorni, oui ou non. Ed è lì che l'Austria ha fatto l'errore. È caduta nella trappola, è cascata nella trappola di lanciare quest'ultimatum che costringe poi Napoleone III a mantenere la sua promessa e a fornire, a fare scattare quella clausola che permette di rendere operativa l'alleanza. Ecco, l'errore è sostanzialmente quello. Come è stato un errore gravissimo da parte austriaca? Quella di incaponirsi su questa questione del lesione, del prestigio, del grande impero se al tavolo negoziale di un congresso fossero stati invitati a sedere anche i piemontesi. E quel è stato un errore grave perché a quel punto anche le altre potenze, l'Inghilterra in primis, accettano l'idea che la guerra sia inevitabile e le potenze che tutto sommato avevano promesso la loro neutralità come la Prussia e la Russia, a quel punto non hanno particolare interesse a entrare in un gioco diverso. Quindi sostanzialmente l'azzardo è riuscito perché fin dall'inizio, dicevi la Fisch appoggiata su quella casellina lì, lui voleva la guerra e non il congresso, voleva evitare il congresso, tutto il resto delle diplomazie europee voleva invece il congresso. A questo punto bisognava costringere tutte le capitali europee a comprendere che il congresso sarebbe stato impossibile e quindi la guerra sarebbe stata inevitabile e la guerra sarebbe stata in realtà imputabile all'atteggiamento aggressivo dell'Austria. E con questo il cerchio si è chiuso e si è chiuso dimostrando che aveva ragione in quella lettera appunto scritta poi nel 1860 a Bettino Ricasoli che ho citato prima, non si muta l'assetto territoriale da tanti trattati stabilito, non si costituisce un forte regno, non si modifica così gravemente la carta del mondo senza che le grandi potenze abbiano diritto di essere perlomeno consultate. Ecco, il grande diplomatico è quello che è riuscito a tessere una tela particolarmente complessa e costringendo gli altri a lavorare per aiutare a farlo.